Dopo qualche mese di silenzio ma era proprio propedeutico a verificare quelli che erano i movimenti e anche i comportamenti dell'Udc ho potuto notare che è un partito che intanto moderato, ricentra, che chiaramente ha dei principi e dei valori che sono poi quelli miei, quelli che ho cercato di sposare che mi ha lasciato libero nella scelta da seguire anche nei confronti dell'amministrazione comunale con ragazzi giovani, professionisti, un segretario giovane che si sta muovendo benissimo in città e con delle promesse da parte degli organismi regionali con a capo l'assessore Miciche, l'assessore alle politiche del lavoro e della famiglia che ha promesso a tutti noi che verrà in città a Gela ogni settimanalmente, aprirà la segreteria per cui avremo l'assessore presente nella nostra città per dare risposte concrete ai cittadini. Dove si collocherà l'Udc in consiglio comunale? Farò opposizione? Sicuramente io continuerò a fare quello che ho sempre fatto, quindi le mie idee di trasparenza, di denunce di quelle che sono le situazioni che ritengo poco chiare io continuerò a farle. Nello stesso tempo, così come pensavo prima, tutti quegli atti che sono fatti dall'amministrazione comunale per il momento pochissimi, per la verità, se sono fatti per portare avanti Gela io li voterò tranquillamente al di là poi dei colori che oggi prendo da questo momento in poi. L'operazione Panebianco è un'operazione che dà lustro a questo partito perché comunque parliamo di un consigliere comunale attento alla macchina amministrativa, attento a tutto ciò che è stato il lavoro portato avanti dall'Aggiunta Messinese dalla elezione ad oggi, un consigliere attento, un professionista giovane a cui, ripeto, va il mio ringraziamento per aver sposato questa causa. Ripeto, noi in Giovanni abbiamo, io lo chiamo il pivot della situazione oramai perché comunque sappiamo che lui darà del filo da torcere, non tornerà indietro rispetto all'opposizione fino ad oggi fatta, per cui, ripeto, carta bianca a Giovanni Panebianco. Cosa farà da oggi l'Udc per migliorare la situazione che si vive a Gela? Chiaramente la situazione a Gela è drammatica sotto molti punti di vista. Noi ci stiamo impegnando sin dall'inizio nell'approfondire appunto questioni di interesse della comunità cittadina. Oggi lo faremo più da vicino grazie all'Avvocato Panebianco e quindi ci impegneremo su questa linea.